Mi cedono i gatti, i gatti guardano nel sole, dentro il mondo sta girando senza fretta. Ma Nino non ha aver paura di sbagliare un calcio di rigore. A me l'altro c'è un uomo al volante a due occhi, che sembra un diavolo. Fai girare, vengo, si vede più salve, è sempre una curva, è sempre più distante. Il bandito e il campione. Francesco De Gregori come è oggi in concerto. Stasera alle 22 su Canale 5.